ciao a tutti ragazzi bentornati in questa sottospecie di puntata che non può essere un vlog perché non non parla della mia giornata quindi non è un daily vlog non è un weekly non è niente semplicemente era da un bel po di tempo che non giravo vlog mi dispiace già ve l'avevo detto prima negli ultimi video che ho girato al riguardo visto che appunto il motivo principale per cui non sto girando è che ho tante cose da fare soprattutto da pensare e quindi non mi sento tanto invogliato dal girare quello che faccio anche perché non potrei perché o vado avanti e indietro il lavoro o mi metto al computer il lavoro o mi metto a registrare e farvi vedere mentre disegno o mentre scontorno foto è un po stupida come cosa ma prima di parlarvi degli acquisti che ho fatto perché questo come si vede dal titolo è un unboxing mentre parliamo un poco facciamo partire la sigla giusto questo non ha la sigla quindi niente sigla iniziamo allora visto che sto lavorando appunto per così dire lavorando poi quando farò un po più di mente locale vi spiegherò meglio ho intenzione di prendere tutti quelli che saranno gli introiti a riguardo e investirli appunto nella mia attività per cui mi sono tra virgolette fatto regalo che non è un regalo ma appunto un investimento ho risuscitato una mia vecchia sim e ho comprato un telefonino questo è il mio carissimo logo ho comprato un telefonino un huawei nova young e l'ho appunto piazzato solo per il lavoro nel caso in cui dovreste avere bisogno di lavori grafici lavori grafici potete recuperare il mio numero di telefono dalle pagine social di oirad non lo metto sotto a questo video sanno succede un casino e io vi avviso se iniziate a chiamarmi spam e tutto il resto semplicemente vi posso bloccare e tanti saluti quindi ho comprato questo telefonino ed è stato il primo acquisto forse sensato forse insensato tra la fine del 2017 e inizi del 2018 poi visto che appunto finalmente qualcosina sta arrivando sono sempre più chiatto non vi preoccupate ho iniziato a comprare un po di cosine che mi potessero essere utili nel mio lavoro quindi l'altro ieri è arrivato questo pacco di amazon tra l'altro è arrivato in tempo rispetto a quell'altro che poi vi faccio vedere che è arrivato con due giorni di ritardo sono acquisti che ho fatto in solitaria mentre altri di cui non posso farvi vedere nulla perché non li ho io sono acquisti che ho fatto con paola quella mia amica e collega fotografa appunto in vista di alcuni lavori che faremo appunto per la grafica e la fotografia il montaggio video eccetera tra l'altro il microfono che comprai questo qui della CQ solo con il telefonino registra molto male nel senso che non c'è grande differenza grandi prestazioni e qualità mentre sulle reflex ho notato che funziona alla grande a un campo di azione e cattura il suono in maniera veramente non me l'aspettavo comunque primo pacco ecco qui parlando del microfono ho comprato il caletto di prolunga in modo che quel filo lì può andare sotto i vestiti e questo sperando sia così può andare addosso al cioè fuori dalla persona fino alla telecamera o al cellulare in modo che uno quando registra non si ritrova questo filo penzolante sulla avanti alla persona e che va dritto verso la telecamera in teoria così dovrebbe essere nascosto voglio vedere solo se ho azzeccato con i jack ora vediamo ok lui qui entra vediamo se in teoria dovrebbe entrare anche nel telefono ok va bene quindi dobbiamo solo vedere se come dicono in molti perde di qualità o meno perché se perde di qualità ho fatto una spesa inutile se non perde di qualità ho fatto una grandissima spesa speriamo in bene poi questo l'ho comprato su amazon se volete vi lascio in descrizione i link dei prodotti e per conservare quello e il microfono l'altro giorno ho comprato questo da tiger solo che mi rendo conto che il cavo qui è molto più largo rispetto a quello là per cui probabilmente qui infilerò solo il microfono è una semplice confezione di plastica mi sembra che costa due euro quindi questa non ve la posso linkare perché tiger ha tolto di mezzo allo store online quindi non posso farvele vedere è una semplice confezione che si smonta così si ricubre e via e poi l'ho presa anche lunga e bassa perché da amazon ho acquistato visto che mi servivano queste quattro gomme della stedler pasta bianca morbida perché anche se non ci voleva niente a scendere andare da un cartolaio qualunque costano di meno mi sembra quasi un euro un euro sì quasi un euro a pezzo di solito costano molto di più e quindi buon per me poi visto appunto il telefonino nuovo in realtà non volevo fare questa spesa ma posso sfruttare il fatto che ho due telefoni per fare le riprese a doppia camera a doppia inquadratura quindi ho acquistato una memoria micro sd mi sembra non ricordo sì micro sd con l'adattatore per la macchina fotografica di modo che se mi trovo visto che la memoria attuale mi hanno detto che fa schifo l'ho comprata inutilmente la estraggo da questo telefono qua e la piazzo nella macchina fotografica e così accontento tutti 32 giga 32 32 giga e poi visto che io qui non ve l'ho fatto vedere ma dagli ultimi vlog che ho fatto dovreste ricordare il casino che ho su questa scrivania io odio il casino ho comprato questa borsetta questo beauty da nerd che altro non è che appunto è che cavolo una confezione con tanto di stringhe di stoffa quelle là con lo stretch per tenere in ordine i cavi che appunto è un organizer per sistemare cavetti memorie puzza terribilmente carica batterie prese in modo che anche se devo spostarmi c'ho già tutto in ordine qui l'ho comprato azzurrino perché lo nero costava di più e quindi vado da per questo sono portacavi portamemorie sd schede usd qui volendo c'è proprio lo spazio per un sd si possono mettere anche il cellulare nel caso si debba viaggiare oppure direttamente la batteria della come si chiama quella la insomma che carica esternamente questi sono gli acquisti intelligenti ora ci stanno gli acquisti meno intelligenti furbi perché in pratica io devo ancora finire ed è appena arrivato perciò sto registrando ora quindi immaginate l'attenzione di non poter aprire quel pacco là perché volevo fare un unico unboxing io devo ancora finire di collezionare una saga a fumetti a manga e quindi eccoci qua ho ordinato un po di numeri di dragon ball evergreen edition dal 33 in poi esclusi mi sembra un paio di numeri perché appunto eccolo qua il 33 perché mancavano sullo store 34 35 mi sembra che il 36 mancava infatti poi c'è il 37 38 39 40 il 41 mancava ho acquistato anche il 42 ma è fermo non capisco perché speravo di poter vedere sbloccata l'opzione sbloccata l'opzione annulla l'ordine parte dell'ordine ma non me l'ha fatta fare quindi fa niente quando arriverà arriverà così me ne mancano appunto un paio e ho finito potrò finalmente leggerla tutta di un fiato sistemare meglio la mensola lì su perché è veramente un casino inguardabile però dai quanto è bella che soddisfazione e vabbè in realtà speravo che questo unboxing durasse un pochino in più perché io vi avevo promesso di parlarvi della costruzione di un di un anfaro di una lampada per registrare tipo studio una ricostruzione fatta con materiali di risulta o comunque in parte ecologici o altro non ve l'ho fatto ancora perché appunto sto avendo un poco di a un bel po di cose da fare ma vi prometto seriamente che a febbraio uscirà e dico questo perché nel frattempo spero di ultimare quest'altro progettino non vi faccio vedere ancora nulla e non vi spiego ancora nulla di modo da mostrarvi sia quella che questa qua ci sarebbero tante cose da dire in realtà l'anno scorso proprio di questi periodi iniziai veramente a fare vlog e poi mi sono fermato per l'estate e ho smesso in realtà ci sarebbero tante cose da dire una fra tante è che youtube ha deciso di modificare di nuovo i termini per i guadagni dei youtuber dei partner cosa che a me non ha fatto molto piacere ma per il semplice fatto che vorrei iniziare a monetizzare qualcosa non per un fatto venale ma perché appunto sarebbe un minimo di entrata che mi aiuta a investire qualcosina in più devo aprire questo basta però non è ancora successo volevo iniziare una serie di vlog tematici o comunque fatti tipo a diario ma questa cosa ancora non so come gestirla che soddisfazione madonna se puzza no la prima è la prima cosa plasticosa che non puzza però appunto non l'ho fatto ancora non so come gestirla e non ci ho voluto neanche pensare molto ora mi devo mettere assolutamente a fare la copertina del video di recenso perché l'ho registrata il martedì dopo un funerale ma appunto non ho avuto il tempo di montarla se non ieri la puntata ieri sera ho finito stanotte alle 2 di caricarlo e uscirà per me oggi quindi fra un'ora e mezza devo anche sbrigarmi e poi devo ritornare a modificare e a scontornare altre benedette fotografie per il lavoro cosa che definisco lavoro solo negli ultimi periodi perché appunto sono molto indeciso al riguardo non voglio ancora aggiungere nulla è stato un piacere di pazzi anche questo canale smetterà di monetizzare perché appunto non ha gli iscritti necessari i minuti di visualizzazione le visualizzazioni effettive necessarie per poter guadagnare quindi anche questo quarto d'ora di chiacchiere per youtube in realtà è inutile perché non mi farà azzeccare un soldo ma come dico sempre io faccio le cose non perché devo effettivamente guadagnarci subito qualcosa ma perché ho piacere di farla poi se c'è un guadagno bene ma youtube non è il mio lavoro come ho sempre detto è uno strumento con il quale farmi conoscere come vedete è anche cresciuta la barba ma poi spiegherò forse forse più avanti la cosa mi vedete sempre pensieroso ma va bene non fa niente fa parte del pacchetto regalo che sono io va bene ci vediamo al prossimo video chissà quando seriamente vi prometto che nel fattibile nel possibile cercherò di tornare vi prometto non so a chi visto che non so quanti siete che effettivamente avete voglia di sentirmi ci vediamo alla prossima ricordatevi di visitare il canale di recenso di iscrivervi così da partecipare alle discussioni e alle puntate ci vediamo alla prossima lunga vita e prosperità ciao ciao Grazie a tutti.